Mio Dio ragazzi, Bitcoin nella giornata di ieri ci ha fatto sognare tutti, ha contrassegnato all-time high su all-time high. Inoltre, come andremo a vedere in questo video, MicroStatici ha speso circa 800 milioni, così presi a prestito, per acquistare ulteriori 12.000 Bitcoin. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon martedì mattino a tutti. Le ultime ore, soprattutto per quanto riguarda le ultime ore di ieri sera, sono state letteralmente di fuoco. Infatti, Bitcoin ha contrassegnato massimi su massimi e andremo a vedere invece adesso cosa fa e soprattutto cosa potrebbe fare nelle prossime ore. Inoltre, andremo a vedere le ultime news relative ovviamente al mercato delle criptovalute. E soprattutto voglio andare a vedere dei grafici insieme a voi. Grafici ovviamente che potrebbero impattare sull'andamento di Bitcoin, che ovviamente si porta dietro con sé tutto il mercato dell'alcoin. Prima di andare a vedere tutto nel dettaglio, ti chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. E fa tu! Perfetto, non perdiamo altro tempo e passiamo con la visuale APC. Allora ragazzi, come di consueto partiamo immediatamente con la visuale su investing.com perché voglio attirare l'attenzione sui dati che usciranno oggi di carattere fondamentale. Abbiamo quattro dati su cui tre voglio appunto evidenziare, dato che sono dei dati molto importanti che ci fanno capire come si sta comportando l'inflazione in zona statunitense nel mese di febbraio. Infatti, come molti veterani del canale sanno, i CPI numbers misurano un po' l'inflazione in zona statunitense, in questo caso, dato che è un dato sul dollaro americano. Dato che prende in considerazione la Federal Reserve soprattutto per quanto riguarda il Core CPI. Il Core CPI, a differenza appunto delle CPI numbers, per chi non lo sapesse, è il dato con escluso il settore energetico del food. Ora non so perché non mi carica investing.com, comunque fidatevi di me perché è così e soprattutto è quello che prende in considerazione la Federal Reserve per la prossima sessione dell'FOMC. Ok, eccolo qui, Excluding Food and Energy. Siamo a vedere un po' cosa uscirà e soprattutto se esce un dato troppo discordante rispetto alle aspettative, ragazzi, avremo un po' di impatto, a mio modo di vedere, per quanto riguarda tutte le coppie che includono e prendono in considerazione il dollaro americano. Passiamo finalmente sulla zona cripto. Infatti MicroStrategy ha comprato con un equivalente di 821 milioni di dollari ben 12.000 bitcoin. Adesso detiene 205.000 bitcoin per un acquisto di 6,9 miliardi di dollari. Attualmente, nel momento in cui sto registrando con un bitcoin che ha toccato i 72 mila dollari, l'investimento di MicroStrategy è in profitto di 7,7 miliardi di dollari. Un ritorno sull'investimento di circa il 112%. Robe folli, robe letteralmente folli. Quest'uomo passerà alla storia. Per un motivo o per l'altro, in positivo o negativo, quest'uomo letteralmente passerà alla storia. Secondo me merita veramente una serie su Netflix, un documentario, un video, perché questo uomo è un folle. E MicroStrategy, ragazzi, con questo acquisto, se la gioca proprio con BlackRock, questi giorni comunque vi riporterò dei dati aggiornati per quanto riguarda le detenzioni sia del Libit sia di MicroStrategy, perché entrambi i colossi se la stanno giocando come le whales più grandi di bitcoin. Ovviamente se lasciamo fare il portafoglio del presunto Satoshi Nakamoto. Alla faccia di tutti i disertori delle criptovalute, soprattutto di bitcoin, il London Stock Exchange, come predetto da ANSA, accetterà bitcoin e ethereum attraverso gli strumenti ETN. Questi ultimi due asset saranno ufficialmente tradabili sul London Stock Exchange, che ricordo è una delle borse più importanti al mondo e che guida soprattutto i mercati a livello globale. Ancora siamo nelle fasi di signing, cioè vuol dire appunto di sottoscrizione dei vari ETN, eccetera, eccetera, però comunque sia molto presto, molto probabilmente saranno disponibili a mercato e saranno appunto tradabili dagli investitori più boomer. Altra news molto molto importante, finalmente bitcoin, se prendiamo i top asset by market cap, è passato all'ottava posizione per quanto riguarda market cap effettiva. Infatti attualmente ha 1.419 trillion dollar di market cap, scavallando il silver che ha 1.388 trillion. Speriamo che riesca a mantenerlo e soprattutto speriamo che riesca a prendere anche Alphabet a questo punto. Secondo me bitcoin quest'anno potrebbe arrivare la sparoli almeno sotto Saudi Aramco, ma mi azzardo a dire che potrebbe arrivare anche sotto invidia. Comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti invece voi cosa ne pensate. Ieri è stata la giornata dei record, perché infatti bitcoin ha sorpassato non soltanto per market cap il silver, che è il secondo metallo più importante al mondo, ovviamente dopo il gold, che viene utilizzato come riserva di valore, ma ha sorpassato anche il franco svizzero per diventare la tredicesima largest currency nel mondo. Ciò vuol dire che a livello di peso è più importante attualmente a queste condizioni del franco svizzero, che anche esso, ricordo, che un po' come il dollaro americano viene utilizzato come bene di rifugio o comunque sia come bene di diversificazione quando sui mercati a risk on c'è un po' di marasma. Mio Dio, ragazzi, se prendiamo in considerazione il trend accumulation score, vediamo come negli ultimi giorni hanno riniziato a accumulare come dei pazzi quasi tutti i player a mercato. Infatti, se prendiamo in considerazione dai portafogli che detengono da meno un bitcoin, non è che detengono meno uno, comunque sia un valore più basso di un bitcoin, fino ai portafogli che detengono mille bitcoin, vediamo come c'è un'accumulazione atroce. Infatti, più è intenso il blu, più questi portafogli stanno accumulando l'asset, che in questo caso è bitcoin. Vediamo anche come le grandi whale stanno accumulando. Le grandi whale sono quei portafogli che detengono più di 10.000 bitcoin al loro interno. Praticamente stiamo parlando di whale che possono, non dico muovere il mercato, perché in queste condizioni diciamo che abbiamo una market cap molto molto ampia. Però ragazzi, tendenzialmente hanno un grosso peso e quando vogliono scaricare, diciamo che fanno sentire la selling pressure. L'unico che sta un po' attenuando e è sempre in bilico, non sa se continuare a accumulare eccetera eccetera, sono quei portafogli che vanno dai mille bitcoin fino a 10.000. Comunque quasi tutti stanno accumulando con un blu molto molto intenso. E ricordo che tendenzialmente se tutti questi player stanno accumulando, probabilmente è perché si aspettano un bitcoin a cifre molto molto più alte. Ma questa è soltanto una mia speculazione. Ragazzi, prima di entrare nel vivo di questo video, vi ricordo che sta per scadere la promo dei depositi a 100 USDT per ricevere 100 USDT di trading bonus di BitGet. È una promo esclusiva per voi, infatti come potete vedere c'è il mio faccione qui, che vabbè non è molto bello, però comunque sia, se effettuate il primo deposito che corrisponde a 100 USDT entro 72 ore dalla registrazione, allora avete un trading bonus entro i 7 giorni lavorativi al termine dell'evento. Tutti i link in descrizione. Adesso passiamo con i grafici. Perfetto ragazzi, partiamo con la visuale su il mercato, come si sta comportando il mercato. E per farlo partiamo su CryptoBubble, in modo da avere una panoramica generale di come si è comportato nell'ultime 24 ore. Beh, direi decisamente positivo, infatti abbiamo Ton che guadagna un 31,4%, abbiamo Solano un 9,9%, Rune un 10,5%, insomma in linea generale poche bolle in realtà sono in negativo. E quelle che sono in negativo è perché hanno ultra performato nell'ultima settimana e nell'ultimo mese, comunque rimangono sempre in positivo, ad esempio FET. Ma andiamo a vedere i big, sia Bitcoin che di Ethereum, in particolare Bitcoin, perché Bitcoin questa mattina ci svegliamo con un più 4,72%, assestando il prezzo a 71.764 dollari. Avete capito bene? Siamo in price discovery ufficialmente. Ieri abbiamo toccato all-time high su all-time high, come abbiamo visto anche nell'intro. E ragazzi, in questo video infatti voglio andare a vedere un pochino quello che sta succedendo. Ethereum invece guadagna un 4,72%, assestando il prezzo sopra i 4.000 dollari. 4.041 dollari. Diciamo che entrambi stanno avendo delle performance degne di nota. Quel che mi fa un po' paura è il FearGrid Index che ci segna un bel 92, ma come questo abbiamo tanti segnali che potrebbero comunque sia farci allarmare in base al fatto che siamo veramente, veramente, veramente tanto estesi, soprattutto su Bitcoin, dato che non era mai successo nella storia di Bitcoin che avessimo toccato l'all-time high già prima dell'albing. Ricordo che l'albing avverrà tra 36 giorni, quindi a livello storico non ha mai fatto un pattern del genere Bitcoin. Di conseguenza diciamo che a livello ciclico si sta comportando in maniera differente. Possiamo dire che questa volta è differente. Ieri parlavamo di questo triangolo, triangolo di compressione, dove abbiamo rotto verso il rialzo. Vevo detto, ragazzi, attenzione, perché questo potrebbe essere benissimo un ritest per poi ricontinuare verso l'alto. Effettivamente è così. Vevo detto che poteva essere negato a questo pattern qualora fossimo andati sotto su una candela a quattro ore, ma così non è stato. Anzi, in realtà c'è stato pure questo rigetto che ci poteva anticipare, come dicevo ieri, appunto una salita. Dal momento in cui registravo il video, ragazzi, abbiamo fatto, abbiamo toccato un massimo di 72.952 dollari, quasi 73.000 dollari, incrementando il prezzo di Bitcoin di un 6,43%. Effettivamente, ragazzi, la situazione è questa. O veniamo rigettati entro questa settimana qui, infatti andiamo sul weekly. Se dovesse chiudere comunque sia la candela al di sopra dei massimi storici, almeno weekly, io direi anche giornalera, ma in realtà giornalera l'ha già chiusa, ok? Infatti possiamo vedere come abbiamo una forte decisione al di sopra dei massimi storici. I massimi storici sono all'incirca qui, 69.000 e qualcosa. Effettivamente, ragazzi, ufficialmente siamo in Price Discovery. Andare a fare analisi tecniche attualmente non ha alcun senso, anche perché non abbiamo a livello storico dei punti di interesse sul quale Bitcoin potrebbe reagire, eccetera, eccetera. Ciò che voglio vedere è un mantenimento, ovviamente, di queste performance durante i prossimi giorni, poiché se sul settimanale dovessimo riassorbire e rientrare al di sotto dei 67.000 dollari, allora la situazione cambierebbe nettamente. Attualmente non c'è questo pericolo, almeno nel momento in cui sto registrando. Qualora si presentasse, ragazzi, vi informerò. Uno dei fattori che un po' mi impensierisce, effettivamente, è il fatto... Uno che abbiamo fatto pre-alving i massimi storici. Ma è successo nella vita di Bitcoin, come abbiamo detto prima. Due che siamo estesi senza mai un ritracciamento. Se noi prendiamo in considerazione, a partire proprio dal rush che ha fatto dai 25.000 dollari, non abbiamo mai fatto un ritracciamento. Anche se dovessimo prendere come buono questo ritracciamento qui, ok, questo qua, abbiamo toccato a malapena gli 0.38, non abbiamo toccato neanche gli 0.5 per poi ripartire verso l'alto senza mai ritracciare sul weekly. Ragazzi, una performance stellare. Praticamente Bitcoin, da questa cifra qui, che possiamo chiamare a ritracciamento, non saprei, ha fatto quasi un 100%. È un asset capitalizzato molto, perché ricordo che Bitcoin è capitalizzato. È capitalizzato più del silver, appunto, più dell'argento. Andiamo a vedere alcuni dati, perché ovviamente ieri vi dicevo, ragazzi, attenzione, in zona 70.600 dollari c'è un liquidation leverage molto importante. Liquidation leverage, che poi l'abbiamo preso, che si era creato appunto con questo ritracciamento, l'abbiamo beccato in pieno e, soprattutto, abbiamo fatto gli all-time high. Inoltre, volevo mostrarvi alcune cose che, in realtà, ci fanno capire quanto la propensione delle persone sia longa. Niente a che vedere con la situazione che abbiamo visto quando Bitcoin era all'incirca i 72.786 dollari. Pochissime ore fa, ok? Avevamo raggiunto un open interest di 20,46 miliardi, ma non soltanto, avevamo un funding rate positivo dello 0.1154. Questo vuol dire che tantissime persone si erano esposte e avevano posizioni aperte e long che, almeno in parte, ci sono state liquidate con questa piccolissima discesa, ok? Che poi chiamare discesa è tutto un dire. Siamo passati da, appunto, del 72.700 dollari fino ai 71,5. Magari avevano uno stop stretto o hanno deciso, appunto, di andare a chiudere manualmente le posizioni. Comunque, l'importante è vedere i funding rates sotto controllo. Sono assolutamente positivi, perché diciamo che il sentiment e il mercato è positivo. Andare contro il mercato senza un'evidenza di inversione, soprattutto dal punto della price action, a mio modo di vedere, è letteralmente da folli. Parlando di Ethereum, ragazzi, volevo mostrarvi il fatto che anche qui non ci stiamo comportando assolutamente male. Però la situazione è completamente diversa, perché su Ethereum ancora ci manca un bel po'. Per andare a prendere gli all-time high, ancora un 20,72%. Diciamo che ancora di spazio e rotazione dei fondi, qualora dovessimo vedere una stazionalità di Bitcoin, soprattutto sul daily, e magari vedere parte dei capitali ruotare su le altcoin, che ovviamente passano prima da Ethereum. Una cosa interessante però ve la volevo mostrare, ovvero che ieri vi dicevo, ragazzi, attenzione perché quel che voglio vedere è assolutamente andare a rompere questa zona, ok? Perché qui, oltre ad avere il 4000, che è una zona psicologica, avevamo dei livelli di supporto che potevano ostacolare la salita proprio per quanto riguarda il daily di Ethereum. L'abbiamo rotta, anzi, come potete vedere, abbiamo fatto una fake rottura, una induzione short per poi andare verso l'alto, ok? Il che non è assolutamente, assolutamente male. Quel che voglio vedere, anche per Ethereum, nonostante che anche qui siamo iper estesi, una continuazione almeno fino a questa quota qui. Anzi, vi voglio far vedere il livello settimanale. Il livello settimanale, infatti, qualora dovessimo chiudere a questi livelli, potremmo benissimo arrivare alle chiusure massime che sono ai 4615 dollari. Attenzione, ragazzi, se siete in estremo profitto, non è un consiglio finanziario, però comunque sia, non dico vendete tutte le quote, ma iniziate a andare a prendere del profitto perché non si sa mai cosa potrebbe succedere. Questo è un movimento anomale, una situazione anomala, indotta sicuramente anche dalla situazione ETF istituzional all'interno del mercato del criptovaluto, eccetera, eccetera. Però io dico che non è mai male iniziare a prendere un po' di profitto, soprattutto per quanto riguarda Bitcoin, ragazzi. Cioè, ragazzi, abbiamo sfondato gli all-time high come se non ci fossero domani. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ricordo che c'è la promo di BitGet, ovvero deposito da 100 USDT, per ricevere 100 USDT alla fine della promo che scadrà il 15 marzo. Tutti i link qui sotto in descrizione, oltre al 20% di sconto sulle trading fees. Se non l'avessi ancora fatto, vi chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Per gli iscritti, invece, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.